E' visitabile dal 3 al 30 maggio all'URP del Consiglio regionale di Viarsenale 14G a Torino la mostra sull'ecomuseo delle fucine di Mezzanile, una serie di pannelli ed istantanee tra i luoghi e gli attrezzi d'uso delle antiche fucine. Il territorio di Mezzanile nelle valli di Lanzo si qualifica come esempio unico sulle Alpi per la diffusa presenza di un gran numero, oltre 70, di piccoli laboratori per la produzione di chiodi e altri oggetti in ferro. Queste fucine, sparse capillarmente in quasi tutte le borgate del territorio comunale, costituiscono una nota caratteristica del paesaggio e dell'economia locale, in cui per secoli la lavorazione dei chiodi affiancava in maniera prevalente in molti casi le consuete attività montane agrosilvo-pastorali.